Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo con la cronaca. È stato rimpatriato colui che si faceva chiamare il re di Sant'Agostino. Si faceva chiamare il re di Sant'Agostino, la piazza di Arezzo, tunisino, 21 anni, ben conosciuto dalle forze dell'ordine per essere coinvolto in traffici di droga e aver rapinato coetanei e minorenni. Proprio il giorno della liberazione, il 25 aprile, è stato imbarcato dagli uomini della Polizia di Stato sul volo charter diretto a Tunisi per riportarlo nel suo paese. A definirsi il re di Sant'Agostino era stato proprio lo stesso ventenne durante la trasmissione di Ritto e Rovescio di Rete 4 nel maggio 2023. Nello scorso mese di novembre il ragazzo, la cui famiglia vive ad Arezzo, era stato arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già una prima volta era stato trasferito al centro per il rimpatrio di Bari, ma poi aveva fatto ritorno in provincia di Arezzo. Dopo un'intensa attività di indagine portata avanti dal personale delle volanti e della squadra mobile della questura di Arezzo insieme all'ufficio immigrazione, il ragazzo è stato nuovamente intercettato e accompagnato in un altro centro per poi prendere il volo per la Tunisia. Furto nella notte all'antica bottega di Primo in via Cavour ad Arezzo. Intorno alle 5, uno dei cippi di metallo che delimitano il marciapiede è stato usato dal ladro per sfondare il vetro della porta. Il bottino è di circa 200 euro che erano in cassa e alcune bottiglie di alcolici, ma ovviamente l'importo del danno è molto più alto. Il ladro si sarebbe ferito e avrebbe perso anche molto sangue sul caso, indagano i carabinieri. È partita questa mattina e proseguirà anche nei prossimi giorni la raccolta firme del comitato per salvare gli alberi di piazza Saione. I cittadini che appunto ne fanno parte non sono d'accordo con il progetto di riqualificazione voluto dal comune di Arezzo, però proprio dal lente, in questo caso dall'assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi, arriva un'apertura. Una raccolta firme, siamo già arrivati ad oltre 1200 in difesa degli alberi di piazza Saione ad Arezzo, ma soprattutto per ribadire un concetto che ai cittadini di questo popoloso quartiere della città proprio non va giù il fatto che il progetto di riqualificazione finanziato con fondi PNRR non sia stato sufficientemente concertato con la cittadinanza prima della sua approvazione finale. Siete stati sentiti, ascoltati? No purtroppo, è questo che a noi non va bene, perché se l'amministrazione avesse fatto un'assemblea per tempo, e parlo di sei, anche un anno fa, noi come cittadini avremmo fatto le nostre osservazioni e poi magari non avrebbero forse tenuto conto, ma comunque le avremmo fatte. Mentre invece è stata fatta un'assemblea il giorno 9 al sottochiesa di Saione, dove la gente non era informata. Di fatto la nuova piazza, come si vede dal progetto, eliminerà la strada che attualmente divide il sagrato della chiesa dall'attuale aiuola e sarà ricompresa tra due nuove strade che attraverseranno il quartiere. In questo modo noi questo quartiere lo continuiamo a dividere, a sezionare con delle strade di lunga percorrenza, di estremo traffico, senza creare invece dei polmoni e delle zone di raccordo. Basta guardare piazza Zucchi. Il progetto, per quanto riguarda una maggiore pedonalizzazione dell'area, apprecisa l'assessore alle opere pubbliche del comune di Arezzo, Alessandro Casi, rispetta le richieste della popolazione. Nessuna cementificazione, ma anzi verranno usati in materiali di pregio come il porfido e la pietra. Nelle nuove zone verdi saranno piantumati nuovi alberi a fusto alto, ma siamo disponibili ad aumentare la superficie delle aree verdi e a piantare altri alberi, andando incontro alle richieste della popolazione. Poi, se dobbiamo arrivare alla contrapposizione, le piante ancora non sono proprio talmente grosse che ci possiamo abbracciare intorno e vediamo se dobbiamo arrivare anche a questo. Crolli nel portico laterale della chiesa di Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, una tra l'altro delle più belle della nostra città. Si tratta di travi, tegole e porzioni della copertura del loggiato che appunto stanno venendo giù. La zona è stata transennata, c'è stato anche un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune e adesso dovrà essere messa a punto un'opera di risanamento di intesa con la soprintendenza, come vediamo proprio anche dalla foto del Corriere di Arezzo. Ovviamente si tratta di un luogo di valore artistico e monumentale. Insomma, come dicevamo, i lavori dovranno essere concertati con la soprintendenza. Si chiama Final Warming, l'ultimo riscaldamento atmosferico stagionale, un fenomeno primaverile naturale che segna il passaggio dalla stagione invernale a quella estiva nella stratosfera e secondo gli esperti di Trebi Meteo porterà il caldo negli ultimi giorni di aprile. Dopo le temperature più fresche che hanno portato insomma anche neve sui rilievi, anche in Toscana è previsto un forte invece innalzamento delle temperature. L'Italia, appunto secondo le cartine, è ancora dominata dal colore rosso che indica temperature sopra la media stagionale. Quindi davvero in pochi giorni potremmo insomma passare dalle nevicate in quota un progressivo arrivo del caldo africano. E allora, proprio il caldo è tra i motivi insomma di contestazione da parte di chi è contro a tenere le scuole aperte anche d'estate. Come sappiamo c'è anche un piano da parte dell'attuale governo per poter appunto prolungare le attività, non solo ovviamente didattiche, ma anche di altra natura durante i mesi estivi. Su questo noi abbiamo sentito il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi della Toscana, Alessandro Artini. Ecco, rispetto al fatto che si torni a discutere in realtà, insomma lo si fa davvero di raro in Italia, che la scuola possa continuare anche durante i mesi estivi, insomma un'organizzazione un po' più all'europea. Che ne pensate? Beh, noi siamo assolutamente d'accordo. Ora, molti obiettano, con questa crescita, con questo aumento delle temperature, la scuola estiva è un controsenso. Beh, ma qui bisognerebbe ragionare per assurdo, perché ormai con l'aumento che ci sono delle temperature, forse dovremmo chiudere anche giugno, oltre che luglio-agosto, chiudere anche settembre, e forse un pezzo di ottobre, perché in questi mesi, ormai abbiamo visto l'anno scorso, c'è un caldo molto elevato. È evidente che noi dobbiamo prescindere dalle temperature. Come fare a prescindere? Per esempio, cioè, avremmo dovuto utilizzare una parte del PNRR per sistemare nelle scuole degli impianti di refrigerazione e soprattutto, come è accaduto durante la pandemia, degli impianti di sanificazione dell'aria. Però questo è un argomento un po', mi permetto di dire, un po' tabù in Italia. Cioè, quando se ne parla, ovviamente, c'è subito un po' una levata di scudi da parte, soprattutto, insomma, di chi poi, insomma, difende, magari i sindacati difende, in questo caso, il lavoro, insomma, di chi poi opera nel mondo della scuola. In realtà i ragazzi stanno tre mesi all'asciutto, se non a carico di famiglie o, insomma, centri estivi, di competenze importanti. Io penso che i sindacati dovrebbero ripensare profondamente le loro posizioni, perché, diciamo pure, la questione è questa. Intanto, sul piano degli apprendimenti, io credo che ci sia una letteratura pedagogica oggi che dimostra come gli apprendimenti si affermano con una progressione lenta, senza grandi salti e discontinuità. Quindi questi tre mesi, direi che dal punto di vista degli apprendimenti dei ragazzi, e questo, a mio avviso, è l'elemento dominante, non sono favorevoli, anzi, sono fortemente negativi. Ci sono alcuni insegnanti, un po' meno quelli delle superiori, ma direi soprattutto quelli della scuola primaria, che rimangono effettivamente a casa tre mesi. Le ferie sono sempre quelle, 32 più 4 giorni sarebbero 36, però, non essendoci attività, di fatto il tutto si trasforma in una progressione di ferie di tre mesi. Ecco, togliere questo elemento significerebbe togliere forse un elemento di appetibilità del mestiere di insegnante. Però questo costituisce un equilibrio che deve essere necessariamente rivisto se il mestiere di insegnante vuole diventare una professione e non una semiprofessione o un mestiere per cui ci sono tre mesi che consentono oppure, diciamo così, un orario di lavoro che pur è incrementato nel corso degli anni, però abbastanza ridotto che consente, diciamo così, altre attività. La professione di insegnante dovrebbe essere quella dominante. Se poi uno ha tempo per dedicarsi ad un'altra professione o dedicarsi ad altre attività, buon per lui, ma quella professione dovrebbe essere dominante. E io ritengo che molti dei problemi della categoria docente, in primis quelli stipendiali, derivino anche da questo equilibrio che peraltro è negativo da tutti i punti di vista. I lavori di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non si fermano nemmeno in occasione di questo ponte festivo che è partito con il 25 di aprile in tutto il comprensorio. Alto Valdarno e i cantieri sono aperti e in qualche caso offrono anche interventi davvero mozzafiato sotto il profilo delle immagini. Sul Teggina 2 a Ortignano-Raggiolo c'è stata una mattinata di lavoro per gli operai acrobati che hanno eliminato una pianta pericolante di grandi dimensioni. Lavori anche sul Fosso Rovella. Qui gli operai e i tecnici del consorzio hanno sagomato una sponda per preservare le opere idrauliche, in questo caso appunto a difesa del centro abitato di Poppi. E adesso diamo uno sguardo a quelle che sono le varie iniziative che ci attendono in questa domenica 28 aprile dove appunto come abbiamo sentito le temperature sono il leggero rialzo anche se sarà un tempo comunque instabile. Partiamo da Foto Antiquaria che torna domani domenica 28 aprile dalle 9 alle 18 sotto il loggiato vasariano di Piazza Grande. Fotocamera, cineprese e attrezzature fotografiche antiche protagoniste di una mostra che è un vero e proprio paradiso per chi ama la fotografia d'epoca. Domenica 28 aprile torna così ad Arezzo l'appuntamento con Foto Antiquaria la storica mostra mercato organizzata dalla Fondazione Arezzo in Tour in collaborazione con il Fotoclub La Chimera di Arezzo diventato ormai un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Sotto le loggie vasari in Piazza Grande dalle 9 alle 18 25 espositori provenienti da ogni parte d'Italia daranno vita ad una singolare fiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature analogiche e digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere la ricerca di pezzi rari ed introvabili per arricchire la propria collezione o riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni di vario carattere fotografico. La manifestazione è nata nel 1986 ed è la prima in Italia propone due appuntamenti annuali, uno in primavera e uno a fine estate ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. In occasione di foto antiquaria, infine sabato 27 aprile dalle 9.30 alle 18 Confartigianato Fotografi ha organizzato in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour un workshop rivolto ai fotografi professionisti condotto da Nausica Giulia Bianchi, fotografa documentarista che avrà come tema Ogni persona ha un segreto, ritratto e performance. Sempre domenica 28 aprile presso invece i giardini pubblici di Castiglion Fiorentino siamo dunque in Valdichiana, una iniziativa che invece richiama sicuramente tutti i curiosi e appassionati del mondo dell'usato. Parliamo della mostra Scambio di cose vecchie e usate in questa edizione anche in collaborazione con il grande mercatino delle Pulci la manifestazione si terrà dalle 7 alle 19.00. E sono in corso invece i preparativi per la dodicesima edizione del premio Semplicemente Donna. Sono ufficialmente iniziati i lavori per la dodicesima edizione del premio internazionale Semplicemente Donna che recentemente anche ha rinnovato il comitato organizzatore. La manifestazione, da anni impegnata in un'attività di sensibilizzazione contro la violenza e la discriminazione di genere che avrà come presenting sponsor l'azienda Retina Menchetti ha infatti già messo in calendario la cerimonia di premiazione per venerdì 22 novembre in prossimità della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ad ospitarla per il sesto anno consecutivo il teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino. Per regolamento abbiamo rinnovato la giuria con una nuova presidente ed è stato rinnovato anche il comitato organizzatore che come prevedono molti regolamenti dopo certa quantità di anni decade per poi essere rinnovato. Quindi questo è il primo step dove è stato presentato il programma dell'edizione 2024 con tutti quelli che saranno poi gli appuntamenti e anche le situazioni di ordine collaterale. Anche questa nuova edizione avrà un nutrito programma di iniziative collaterali e incontri con gli istituti scolastici del territorio. I ragazzi reagiscono sempre bene quando viene proposta questa cosa parlare, riflettere perché poi ci prepariamo in classe e sicuramente molto apprezzata. Io soprattutto ho delle classi che sono soprattutto femminili e lo sentono moltissimo. Il prossimo 9 maggio infine la consegna delle borse di studio nella Sala dei Grandi del Palazzo della provincia di Arezzo. Sono sempre stata orgogliosa di come i nostri ragazzi hanno risposto agli stimoli dell'organizzazione sia nelle mattinate in cui vengono le premiate a scuola e sicuramente anche per il premio delle borse di studio perché tutte e due le scorse edizioni abbiamo avuto l'onore di arrivare in alto e questo ci riempie d'orgoglio non solo per il premio in sé ma per il significato che è giunto ai ragazzi del messaggio che questa associazione così puntualmente e così deditamente trasmette alle nuove generazioni. Ed infine siamo allo sport alla vigilia dell'ultima partita degli Amaranto contro il Sestri Levante sentiamo le parole di Mister Indiani. Non lo so, non lo so cosa faranno so che verranno a giocare spencerati e siccome la squadra, ripeto, sa giocare a calcio e l'ha messo in atto in maniera, credo, ripeto, una delle migliori del girone e sicuramente giocando liberi cioè dopo aver raggiunto l'obiettivo della salvezza saranno ancora più pericolosi. Davvero il pubblico le festeggi indipendentemente dai risultati dell'ultima giornata e direi, è chiaro, il derby Perugia ci sta bene però di tutti i campionati hanno fatto di come sono andate e di tutto quello che di buono davvero è stato fatto perché anche se noi ce la facciamo arrivare a 53 punti sarebbe un punteggio veramente notevole dipende dagli altri, cosa fanno gli altri per permettere di giocare in casa. È chiaro e mi ricordo quella sfortunatissima partita la Juventus e ha determinato la griglia perché anche un semplice pari che meritavamo ampiamente con la Juventus è meno due, noi più uno il discorso era totalmente diverso ora dipendiamo dagli altri le probabilità maggiori, non nascondiamocelo sono quelle di fare la prima gara in trasferta gioando in contemporanea ci sarà anche sapendo, sapendo gli altri eccetera eccetera però l'obiettivo nostro è di arrivare a 53 punti Parliamo adesso invece di basket sono stati davvero numeri da record quelli registrati nell'edizione numero 39 del torneo Guido Guidelli organizzato dalla scuola Basket Arezzo nella nostra città sono arrivate tra atleti e preparatori e genitori oltre 1500 persone davvero un bel esempio di turismo sportivo sentiamo allora ai nostri microfoni il presidente della SBA Mauro Castelli al termine della serata di premiazione ospitata dal Palaestra Presidente davvero una 39esima edizione da record e per voi insomma una grande soddisfazione sì per me doppia perché quest'anno io non ho potuto dare il mio contributo quindi uno staff organizzativo spettacolare quest'anno erano i numeri insomma prevedevano anche qualche difficoltà per adesso è andato tutto bene quindi diciamo siamo molto soddisfatti sia dell'afflusso sia dell'afflusso turistico perché mi dicono che insomma c'è stato molto diciamo molto afflusso anche della città per visitare Arezzo quindi quello che noi vogliamo sempre dire il turismo sportivo stavolta ancora di più ha funzionato quindi sono veramente contento e per adesso sono solo complimenti quindi mi fa molto piacere avete dato un premio speciale alla Virtus Trapani insomma senza nulla togliere ma arrivare dalla Sicilia e poi la motivazione è molto bella lo sport annulla le distanze esatto questo è stato scelto insieme al Panathlon proprio per il sacrificio che questi ragazzi hanno fatto considerato hanno dovuto prendere un aereo poi il treno poi i pullman insomma quindi mi sembrava giusto fargli questo regalo mi sembra che hanno apprezzato molto si pensa al compleanno Cifratone esatto il quarantesimo bisogna inventare però qualcosa di particolare so già che Umberto Vezzosi quest'anno non ha portato un ospite è a caccia di uno importantissimo chissà vediamo un po' però dobbiamo fare qualche cosa cominceremo a lavorare come al solito invece che la novembre magari anticiperemo un mese e vediamo un po' e allora tutta la serata di premiazione che come sappiamo insomma dà un riconoscimento a tutti gli atleti al di là di chi poi vincerà nella propria categoria che è stata ospitata come abbiamo visto dal Palaestra e che è andata anche in diretta social sui nostri canali e su quelli ovviamente della SBA e del trofeo tutta la serata integrale la potrete rivedere martedì prossimo 30 aprile alle 21 nella consueta trasmissione che dedichiamo appunto al basket è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'attenzione arrivederci grazie a tutti